Si comincia pian piano a delineare il quadro dei candidati sindaci che correranno in vista delle elezioni amministrative in programma per il 26 di maggio. A Giulianova, almeno nel centro-destra, saranno con ogni probabilità due candidati, da una parte Pietro Tribuiani, che ha riunito a sé tutti i partiti nazionali, e dall'altra il giovanissimo Ivan Costantini, ex espressione di Forza Italia Locale, ora capo di ben sei liste civiche, tra cui quella di Gianluca Grimi, fu riuscito da Fratelli d'Italia, che ha deciso di fare un passo indietro alla sua candidatura e appoggiare Costantini. Diciamo che c'è stato posto il quesito di scegliere tra un simbolo di partito dei nostri cittadini e abbiamo scelto la nostra cittadinanza. Sono fiero e orgoglioso di guidare la più ampia coalizione che ci sarà qui a Giulianova, che ci sia mai stata qui a Giulianova. Saremo sei liste, otto gruppi che convergono all'interno di queste sei liste e nasce un percorso nuovo, un percorso civico, un percorso dove ci si autodetermina, dove saranno i giuliesi a scegliere e quindi siamo molto, molto fiduciosi. È riuscito a portare nel suo schieramento anche Gianluca Grimi? Sì, nel nostro schieramento ci sono molte personalità importanti della società civile qui a Giulianova, ma c'è anche il candidato sindaco di Fratelli d'Italia che ha scelto di fare un passo indietro e convergere all'interno della mia coalizione civica. Giulianova è una città da troppo tempo china su se stessa, è una bellissima donna, lo dico sempre, molto trasandata. Noi, a differenza di altri che dicono che per i primi tre anni non si può fare nulla, abbiamo un programma per i primi sei mesi, per i primi 12 e per i primi 24.